L'estate è decisamente arrivata e con essa anche il pericolo incendi. Ecco perché dal 1 luglio al 31 di agosto scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di bruciare residui vegetali, agricoli e forestali. È vietata qualsiasi accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in braceri o barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno di aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Sono state eliminate le deroghe che prevedevano la possibilità di accendere fuochi in determinate fasce orarie o a certe distanze dal bosco, mentre sussiste ancora quella che prevede l'autorizzazione per attività di campeggio anche temporaneo e fuochi anche pirotecnici tramite autorizzazioni degli enti competenti che contengono le necessarie prescrizioni. In base all'indice di pericolosità registrato a fine agosto, la regione toscana potrà prolungare il periodo di divieto anche per ogni singolo territorio comunale. C'è poi il numero verde a cui poter segnalare qualsiasi principio di incendio, l'800 425 425. Risponderà la sala operativa regionale antincendi boschivi sempre attiva.